62 migliori blues band Buddy Waters però c'è qualcosa di originario in questo riff e allora decidono di creare questo pezzo che si intitola Yolanda Talov questo pezzo è stato classificato secondo la rivista quando risposta il 75esimo posto come le canzoni più belle della storia e per quanto riguarda le canzoni con la chitarra quindi dovrebbero fare una chitarra in undicesima posizione pezzo fantastico, diventa il primo pezzo successo mondiale del Zeppelin ed è l'unico pezzo che è stato pubblicato come singolo in Inghilterra questa è Yolanda Talov vediamo un po' 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 Grazie a tutti.